Eccolo, quello che corre, sta scappando, sta scappando. Ce l'abbiamo in vista, ce l'abbiamo in vista, sotto di noi. Una macchina, confano aperto, una persona che scappa in campagna e il furgone bianco. Sto entrando a fila a base. Dove? Dove? Mi dà la posizione dove avete fermato il soggetto. Via Giovanni Gentile, Civico 3. Via Giovanni Gentile. Via Giovanni Gentile, Civico 3. E lei, c'è un collega vicino, questa qui. E la macchina grigia, lì, dietro al carabiniero in piedi. Ce l'è fermata anche l'altra battuglia. La macchina sotto di me, la macchina sotto di me, ce l'ha accanto la macchina grigia. Almeno vediamo di recuperare la merce. Alla macchina, l'hova, l'ha accanto la macchina grigia. L'argetta l'algetto sul pollo. Alla macchina, la macchina di sc foto, l'hova, 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 e